Ciao a tutti da Il Salutatore, grandissima sorpresa a Francesca Ritondini per voi. Chi sei te? Il Salutatore. Cristian. Allora io per primo saluto Cristian. Grazie. E poi saluto tutti quelli che mi conoscono, quelli che non mi conoscono, tutti quelli che sono sui social, tutti quelli che non ci stanno, tutti quelli su Facebook, soprattutto che uso pochissimo, però vedo che mi scrive e comunque saluto. Perfetto, io ti ringrazio, sei carinissima, un saluto a tutti quanti. Auguri. Dal Salutatore, grandissima. Buona vita a tutti. Ciao. Ciao. Direttamente dalla festa del cinema. Ciao. Ciao.